Eccolo nei suoi cinque faldoni. Dopo oltre 30 anni di attesa, Teramo ha finalmente un progetto definitivo per il recupero del teatro romano, redatto dopo le indicazioni emerse dal confronto che il Comune ha attivato con la sovrintendenza, con i cittadini, le associazioni interessate, con il supporto finanziario della Fondazione Tercas e della Regione Abruzzo. Con questo post su Facebook, il sindaco Gianguido D'Alberto annuncia ai Teramani che un sogno è diventato realtà. «Renderemo partecipe anche il ministro Franceschini», scrive ancora il primo cittadino di Teramo, già investito della questione durante la sua precedente esperienza da ministro dei beni culturali. Si recò da lui infatti una delegazione di cui facevano parte anche il compianto Marco Pannella e i rappresentanti dell'associazione Teramo Nostra. Un risultato straordinario di tutta la città, un risultato che chiude un'attesa di anni e premia un lavoro paziente. I referenti istituzionali, continua D'Alberto, hanno finalmente compreso quanto sia importante, non solo per Teramo ma almeno per l'intero Abruzzo, il recupero funzionale del teatro romano, in chiave turistica e culturale. Aspetti questi su cui puntare con decisione per tornare a dare al nostro territorio quello spessore, quella autorevolezza che per debolezze politiche e avversità recenti abbiamo lentamente smarrito. Il post su Facebook del sindaco Gianguido D'Alberto sul teatro romano non è però piaciuto all'ex primo cittadino Maurizio Brucchi, che ammette di esserci rimasto male per non essere stato citato, nonostante le tante energie spese per questo progetto durante la sua reggenza. Intanto, l'associazione culturale Demos Circolo di Teramo annuncia che dal 1 ottobre 2019 inizieranno le prime fasi di svolgimento del sondaggio deliberativo sulla riqualificazione urbana dell'ambito annesso all'area archeologica del teatro romano. Si tratta di un procedimento deliberativo di urbanistica partecipata sulla base di sei proposte elaborate da un tavolo tecnico formato da esperti e rappresentanti di varie forme associative e popolari come associazioni e comitati di quartiere.